Arriva il conto per gli over 50 non vaccinati e con esso fioccano pure le prime contestazioni. Due sanzioni sono state infatti impugnate dai diretti interessati. Il primo è un soggetto straniero con doppio codice fiscale. Si era vaccinato ma le inoculazioni non risultavano a sistema verosimilmente per una svista burocratica. L'altro è un soggetto residente fuori regione ma fino a poco tempo fa domiciliati in Svizzera dove gli sono state regolarmente somministrate le tre dose di vaccino. C'è fermento in Vale Peligna per i verbali notificati dall'Agenzia dell'Entrata e gli over 50. Al momento anche gli addetti ai lavori fanno fatica a fare una stima ma decine di sanzioni sarebbero state elevate anche sul territorio. Lo stato di emergenza è finito ma stanno per arrivare proprio in questi giorni le multe agli over 50 no vax o comunque agli oltre 50 anni che non hanno potuto vaccinarsi. Le multe quindi non riguarderanno gli over 50 che non hanno potuto effettuare la vaccinazione contro il covid per motivi sanitari. Tutti coloro che invece non si sono vaccinati e hanno dai 50 anni in su riceveranno una lettera dall'Agenzia dell'Entrata che le avvisa della multa ricevuta in automatico. Si sblocca in questo modo la fase di invio ferma negli ultimi mesi a causa della difficoltà da parte del Ministero della Salute a stilare elenchi dettagliati dei non vaccinati. Inoltre fino a qualche giorno fa si era in attesa di ricevere l'ok alla procedura da parte del garante della privacy. Sarà ora l'Agenzia delle Entrate tramite poste a inviare le cartelle sattoriali ai diretti interessati. Le lettere che riceveranno a casa sono denominate comunicazioni di avvio del procedimento sanzionatorio. Ne saranno inviate circa 100.000 al giorno. La persona sanzionata avrà 10 giorni di tempo per rispondere inviando eventualmente un certificato medico che dimostri l'impossibilità a potersi vaccinare. Saranno le aziende sanitarie territorialmente competenti a valutare i documenti presentati. La sanzione sarà evitata solo in caso di accertato pericolo per la salute. Dopo la replica alla comunicazione l'Agenzia avrà altri 180 giorni di tempo per mandare la cartella via e-mail o tramite PEC. Meglio tardi che mai verrebbe da dire anche se nel caso di specie le sanzioni sono fuori tempo massimo visto l'allentamento delle misure per il post emergenza.